Siamo tutti bene, ci stiamo divertendo all'extra grande hanno organizzato veramente tutto nei minimi dettagli abbiamo la possibilità di animazione la nostra nave è lì a Emilio abbiamo un buffet offerto da MSC Crociera proprio sulla spiaggia qualcosa di particolare, di innovativo, di stupendo, di meraviglioso guardate che spiagge, guardate che meraviglia spiagge bianche, acqua cristallina è tutto veramente fantastico ciao ragazzi, ti mando un grande bacio vi voglio bene, ciao